buonasera amici e benvenuti in un nuovo video sul mio canale si è appena conclusa la sfida dello stadio tegil dell'indiano sabbiadoro dove il monza ha battuto con il risultato di 4 1 il pordenone e andiamo e andiamo vittoria che ci dà carica in vista dell'importantissima sfida del brianteo di domenica contro il lecce vabbè il pordenone partiamo poca roba 4 a 1 netto poca roba il pordenone signori finisce così lo show del monza conduce mattia valoti semplicemente splendido sublime mamma mia mamma mia che partita per l'ex centrocampista della spalla mattia valoti e niente il primo gol porta proprio la firma di mattia valoti con un colpo di testa palla in mezzo stacca di testa 1 a 0 per i bagai poi il 2 a 0 arriva a firma andrea colpani il flaco il flaco signori praticamente servito da petro pedro 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 palla in me palla per per colpani che la mette in buca d'angolo non può niente nel portiere del pordenone e poi arriva il 3 a 0 firmato sempre da mattia valoti tiro del macio osè macchin respinto dal portiere in sacca il 3 a 0 per gli uomini del mister giovannino stroppa mattia valoti 4 a 0 che porta invece la firma del vichingo cristian gicchier che torna il gol non segnava da novembre il vichingo forse da quella partita col brescia se non sbaglio vabbè praticamente valoti lancia gicchier che non sbaglia davanti al portiere del pordenone e firma il 4 a 0 per i bagai per i bianco rossi poi arriva diciamo il pordenone ha provato a rientrarsi su 4 a 0 per quelli che è una squadra molto limitata e niente c'è stata una palla in mezzo e un colpo di testa ravvicinato 4 a 1 e niente amici partita vinta tranquillamente dal mozza ora come dico sempre testa a legge perché è fondamentale e sarà una partita fondamentale con il legge perché non bisogna sbagliare non bisogna assolutamente sbagliare non come sabato scorso con il pisa no questa volta il legge non deve passare al brianteo non deve passare dobbiamo dobbiamo portare a casa i tre punti come oggi per continuare per continuare è un campionato tosto è un campionato difficile siamo tutte là però bisogna bisogna dare seguito alla vittoria di quest'oggi col pordenone e vincere anche in casa con il legge intanto la zona inquadrata ora la curva c'è la curva i tifosi della curva che sono andati lì al pordenone all'indiano sabbia d'oro allo stadio teghi a sostenere il monza infatti si sentivano solo i cori per il monza solo e soltanto cori per il monza e niente io vi invito a lasciare un mi piace sotto questo video commentare qui sotto se vi va con le vostre impressioni della vittoria per 4 a 1 del monza allo stadio teghi di l'indiano sabbia d'oro con il la città del brianteo di monza di montarecce è sempre forza monza dai bagai e siamo sempre in cerca del bimbo ma se manca famiglia compri bene bene ventucci quel che passa per la me al tifosi che sei con te noi non ti lasceremo mai noi non ti lasceremo mai noi non ti lasceremo mai al tifosi che sei con te e andiamo grazie a tutti